Promessa mantenuta, ripristinata la strada di Via Molini a Villa Betti. Sì, è una giornata importante, oggi come amministrazione era importante esserci qua perché avevamo preso un impegno con la comunità di Villa Betti, in accordo anche con il municipio di Monte Ciccardo, che era quello di riaprire la strada prima dell'arrivo delle giornate più fredde, dell'inverno, che avrebbe potuto aggravare anche i rischi per la viabilità. Un intervento che nasce da un'esigenza dovuta a marzo ad una prima frana e un peggioramento poi che c'è stato nei mesi successivi, in particolare nel mese di maggio dopo l'alluvione. Come comune abbiamo ritenuto subito questa una priorità, insieme all'assessore Nobile abbiamo stanzato 185 mila euro per il recupero e la realizzazione di questa nuova strada. Di fatto è quello che siamo andati a fare, oltre alla messa in sicurezza di quella parte di terreno franoso. Un intervento non semplice perché abbiamo visto come nel corso, come questo peggioramento necessitasse di ulteriori approfondimenti. Siamo partiti con il lavoro in settembre e nel giro di pochi mesi siamo riusciti a concludere il lavoro in anticipo addirittura rispetto al cronoprogramma e anche rispettando gli impegni presi. Un ringraziamento va fatto alla ditta Palazzi, che ha eseguito in modo egregio i lavori, ma anche alla comunità di Vilabetti che in questi mesi ha appazientato rispetto a questo disagio, però ritrovando oggi con la riapertura della strada anche il collegamento necessario per unire due parti della frazione.